Anche Andrea nella prossima primavera tornerà alle urne per rinnovare il consiglio comunale scegliere il proprio sindaco per i prossimi cinque anni. Il clima è già rovente nonostante manchino ancora 80 giorni all'apertura dei seggi. Frutto un po' delle perplessità sollevate dalle opposizioni sulla tenuta contabile, sulle casse del comune di Andria. Un po' anche perché è arrivato il momento di progettare la città del domani. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con Diritto e Rovescio, la nostra rubrica settimanale di approfondimento. Ventesima puntata di questo quattordicesimo anno di trasmissione. Oggi riflettori puntati su Andria con l'aiuto di quattro, o meglio tre, protagonisti della vita politica cittadina. Cercheremo di fare un po' il punto della situazione e capire come si sta affrontando questo avvio di campagna elettorale. Siamo in compagnia e ringraziamo Gigi Di Noia, assessore all'urbanistica del comune di Andria. Grazie per essere con noi. Così come ringrazio e saluto Giovanni Addario di Progetto Andria. Grazie per essere con noi. Grazie e buonasera al suo pubblico. Grazie anche a Giovanni Vurchio, capogruppo del Partito Democratico di Andria. Cerchiamo di entrare subito nel vivo delle questioni perché uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane è quella famosa delibere della Corte dei Conti che di fatto metteva in discussione la situazione economica della città di Andria. Novità delle ultime ore? Sembra che la Corte dei Conti di Roma abbia accolto i rilievi posti dal comune di Andria, diciamo riformando parzialmente la delibera, quella della Corte dei Conti pugliese. E allora qual è la situazione? Lo chiediamo all'assessore all'urbanistica. La situazione è abbastanza, almeno per quello che io ho potuto guardare in questi anni, abbastanza semplice. Credo che non dobbiamo confondere i due livelli, nel senso che le Corte dei Conti fanno rilievi contabili su quelle che sono le vicende amministrative di una pubblica amministrazione, tra l'altro date in continuità. La delibera della Corte dei Conti di Bari conteneva alcune censure, tra l'altro magari la cosa più fastidiosa era quella di aver usato dei termini abbastanza pesanti, senza entrare nel merito delle questioni tecniche, perché almeno io stesso non ritengo di essere in grado di poterlo fare. Il tutto ruotava attorno a una vicenda che nasce nel 2006. Magari i due consiglieri qui presenti erano già presenti nel precedente Consiglio Comunale e sapranno benissimo quello che era stato fatto la precedente amministrazione, a cui va sicuramente dato il merito di aver fatto un lodo arbitrario, dove avevano potuto garantire e iscrivere la proprietà delle reti del gas della città di Andria allo stesso comune di Andria, trascritto, quindi riportato all'interno delle proprietà all'interno del comune di Andria, fatta una determina di accertamento di congruo prezzo che doveva essere versata dalla stessa società al comune di Andria nel 2009 e poi fermatasi lì, credo per altre motivazioni avevano forse tentato una transazione che poi non è andata a buon fine, anche perché credo che l'assessore all'epoca che è interessato, che era l'assessore Greener, nel frattempo si dimise e quindi era lui che in realtà seguiva questa vicenda, non ebbe seguito nel contorno. Quando noi ci siamo insediati sulla scorta di quella determina dirigenziale fatta nell'anno 2008-2009, abbiamo iniziato a fare azioni giudiziarie nei confronti della società che dal 1976 distribuisce il gas nella nostra città, a termini ampiamente scaduti, quindi con proroghe e su proroghe e a fronte di questa azione pilota fatta per il primo anno che è il 2006, data da cui la rete del gas diventa di proprietà del comune di Andria, è stata emessa una sentenza in giudizio civile, poi appellata, poi è andata avanti, alla fine comunque è stata riconosciuta in effetti una quota economica che va riconosciuta annualmente alla città di Andria. Ma la questione dicevo che è estremamente tecnica perché quello che la Corte dei Conti in questa delibera andava e va a contrapporre come giudizio per l'operato della pubblica amministrazione era riferita a un'operazione tecnica di accertamento e riaccertamento fatta in un determinato periodo, che io sinceramente se mi chiedete di entrare nel tecnico non ci credo. Tra l'altro non serve. Credo che tra l'altro non capirebbero nemmeno i telespettatori. Invece la cosa che è interessante e che interessa è che nel ricorso presentato dal comune di Andria e dalla pubblica amministrazione ovviamente si cercava di far capire che questa operazione non aveva soprattutto nulla di elusivo, anche perché fare un'operazione tecnica che possa pensare di poter eludire qualcosa di una difficoltà simile credo che sia difficile per chi non ha conoscenza della materia, almeno parlo di chi vota poi alla fine questi provvedimenti. Ed era la prima cosa. La seconda cosa era ovviamente capire che questa operazione non era certamente mirata a sforare un patto di stabilità oppure a far sì che non si sforasse un patto di stabilità. Questo è il senso. Poi sulle difficoltà di liquidità o altro potremmo parlarne e quindi possiamo anche far capire da dove nasce e come nasce oggi determinate problematiche. Però la Corte dei Conti di Roma accogliendo il ricorso di Andria, parzialmente il ricorso di Andria, di fatto dovrebbe perché poi non abbiamo letto ovviamente... Le motivazioni non sono ancora pervenute al comune, credo che comunque non perverranno prima di 20 giorni. Ovviamente noi sappiamo il contenuto del ricorso e sappiamo come si svolta l'udienza presso la Corte dei Conti. Il punto cardine ruotava tutto sull'argomento che io gli ho detto poco fa. Credo che la riforma, quando parla di riforma parziale dell'esercizio finanziario del bilancio 2012 del Comune di Andria, vuol dire che è parzialmente accolto quelle che erano le motivazioni poste dalla amministrazione. Poi c'erano anche altre piccole cose che venivano segnalate. Il patto di stabilità è stato sforato o no? Sembra di no. Sembra di no. Allora, dall'altra parte, questa sentenza, questa riforma parziale della Corte dei Conti di Roma va a disinnescare le armi a vostra disposizione o non cambia nella sostanza le osservazioni fatte nei confronti dell'amministrazione comunale. Intanto io parlerei con dati certi alla mano, quindi non sono mai abituato, ho sentito di questo accoglimento parziale della Corte dei Conti sul ricorso fatto dal Comune. È evidente che non leggendo le carte, perché l'accoglimento parziale non vuol dire che 13 gravi irregolarità segnalati dalla Corte dei Conti vengono d'amblè eliminati. Non sarà così sicuramente. Io penso che invece vada nella direzione di dare maggiori chiarimenti di quello che precedentemente la delibera della Corte dei Conti ha fatto, ha fatto usando dei termini pesanti sull'amministrazione andriese. Termini pesanti che non è che nascono la magistratura contabile, non è che si sveglia la mattina e vuole punire l'amministrazione, anzi quei rilievi, quelle 13 gravi irregolarità nascono dopo aver convocato il Comune, il dirigente, il Sindaco, in persona del Sindaco, a presentarsi e a dare chiarimenti che non sono stati sufficientemente esaurienti e quindi sono venuti fuori queste 13 gravi irregolarità. Ora, che la questione, come dice l'assessore di Noia, era tutta incardinata sulla Little Gas, non è vero. Non è vero perché quello era solo uno degli elementi. Quando invece la delibera della Corte dei Conti parlava di somme all'interno del bilancio messe in maniera presunta, alquanto ingigantite, gonfiate, quindi usava proprio il termine gonfiare i residui attivi, passivi, non accertarli nella loro misura reale, non vuol dire che sono la Corte dei Conti. Quando invece noi facciamo delle previsioni di entrate sulle multe che dobbiamo dare ai cittadini andriesi sul codice della strada e che in realtà poi non si verificano, quando noi pensiamo di incassare da accertamenti ICI o rifiuti determinate somme che in realtà poi non si verificano, non parlo, non penso che sia tutto sulla questione di Talgas. Anche perché mi capita proprio a me, nelle funzioni dell'attività professionale che rivesto da privato, vedere una mole di lavoro che stiamo facendo come me e anche tanti altri uffici che stanno andando addirittura a coprire gli anni 2011. E' commercialista, certo. E portiamo addirittura le carte all'ufficio tributi per dimostrare che in realtà era tutto pagato, quando invece l'amministrazione continua ancora a mandare a casa, a me personalmente mi è capitato 2011 di avere l'omesso pagamento di rifiuti e io invece ho dimostrato che il 2011 era pagato. Ma questo vuol dire che cosa? Disorganizzazione della macchina amministrativa, vuol dire una politica inefficiente. Quindi la Corte dei Conti non parla solo di Talgas. Certo, quella operazione che nell'epoca l'amministrazione Zaccaro fu in qualche modo tenuta sotto controllo, ma fu gestita con molta attenzione, poi è andata l'amministrazione Giorgino, l'ha interpretata in un altro modo, ha estrapolato dal 2011 i 4 milioni, 6 milioni di euro, li ha riportati nel 2012 creando un avanzo di amministrazione eccetera eccetera. Quindi non è solo quello. Il problema che io sempre lamento all'amministrazione Giorgino è la grande superficialità con la quale affronta i problemi di una collettività, ma non è possibile amministrare con superficialità. Oggi ci sono delle grandi responsabilità, non è un caso che il Presidente dei Revisori dei Conti, il Dottor Gazzillo, ha fatto una segnalazione all'amministrazione nel periodo di febbraio dicendo attenzione a come spendete le risorse, state mettendo in discussione il futuro di questa comunità. Non è un caso, non è mai accaduto nella storia una cosa del genere, stanno accadendo solo qui. Quindi questo voglio dire, non è che la Corte dei Conti è di destra o di sinistra, la Corte dei Conti guarda le carte e quando dice che l'amministrazione le fa le cose con superficialità, non penso che si stia inventando. Fate le cose con superficialità e state mettendo a rischio il futuro di Andrea? Credo che attendendo le motivazioni che arriveranno e che potremo vedere, credo che anche la Corte dei Conti riunite di Roma non credo che faccia le cose senza leggere le carte. Credo invece che se dobbiamo parlare di superficialità e dobbiamo parlare tecnicamente di quello che è accaduto in questi anni, vada un po' spiegata come è la situazione, perché non è così semplice, magari fosse così. E non credo neanche che si possa parlare di superficialità di un'amministrazione, anche perché quello che è accaduto dal 2010 al 2015 agli enti locali in genere, credo che non si sia mai verificato nel ventennio precedente. Vediamo cos'è accaduto. Diciamo anche negli ultimi 50 anni. Vediamo cos'è accaduto. Iniziamo a fare degli esempi che possono far capire a chi guarda le trasmissioni, a chi guarda le televisioni e non parlando in politichese, sostanzialmente cos'è accaduto. A settembre del 2010, quindi insediati da tre mesi, i trasferimenti che arrivavano al Comune di Andria dallo Stato centrale ammontavano a 17 milioni e 800 mila euro. Oggi, quindi a distanza di 4 anni e mezzo, quei trasferimenti si sono ridotti a 7 milioni e 2. Ma questo è accaduto al Comune di Andria come in tutti i comuni d'Italia. Guardiamo che altro succede per quello che riguarda i residui, quelli che diceva poco fa Gianni Burchio. I residui che sono purtroppo, tra l'altro dobbiamo dire che un anno e mezzo fa abbiamo iniziato a fare già una pulizia di oltre il 50%, il Comune di Andria aveva residui che rinvenivano dagli anni 92 ancora iscritti a bilancio. I residui vengono lasciati nei bilanci, dimenticandosi anche di queste somme così come sono state riportate man mano che venivano fatte determinate determini. Bene, siamo arrivati ormai all'anno zero, lo chiamano così, il 2015 i contabili degli enti locali perché da quest'anno ci sarà un bilancio che in effetti non potrai spendere più di quanto incassi. Se non incassi non spendi, questa è la funzione. Quando si parla di superficialità riferite a somme o a somme spese, io vorrei ricordare a tutti noi quando parliamo di debiti in generale, che sembra, da come viene raccontata la storia, che in questi quattro anni e mezzo il Comune di Andria si sia indebitato per milioni di Euro. Beh, così non è per un semplice motivo, perché se teniamo conto dei mutui che noi abbiamo trovato quando siamo arrivati e che venivano pagati dai cittadini andrisi senza che le opere fossero in corso. Abbiamo degli esempi che sono classici. Noi abbiamo trovato per esempio un mutuo di 2 milioni e 8 su un parco che era quello di Largo Caneva, un mutuo contratto dall'amministrazione comunale di Andria nel 2008, per la quale l'opera non era realizzabile, per un'unica motivazione, perché si partiva dall'assunto che la proprietà delle aree fosse del Comune di Andria, invece la proprietà delle aree era di privati. Ho fatto un esempio come questo per non dirne altri. Questo che significa? Che c'era il debito? Significa che noi avevamo 3 o 4 muti per un aumentare complessivo di circa 4 milioni e mezzo per diverse opere, per le quali dal 2008, 2007 e 2009 pagavamo le rate, ma le opere non potevano essere realizzate. Ma quei soldi erano stati poi impiegati per altro? I soldi non erano stati impiegati per nulla, erano fermi alla Cassa dei Posti e Presti e noi pagavamo le rate. Con quelle somme noi abbiamo fatto delle devoluzioni di muto e abbiamo fatto altre opere. Una per tutte, quando c'è stato il crollo su Via dei Gasperi o Corsocavo, noi abbiamo fatto una devoluzione di parte di quel muto proprio per poter fare questo tipo di opere. Quindi i debiti, quando uno parla di debiti o quando uno parla di somme che va poi man mano ad attingere, li deve guardare nella sua totalità. Altra cosa che, quindi da quello che rinviene, noi continuiamo a pagare per esempio i buoni ordinari comunali che furono fatti nel 98, abbiamo una rata annua che pagheremo fino al 2020, scadrà il 2020, iniziata se non sbaglio 20 anni fa ormai. Credo che qualsiasi ente locale segua una procedura simile. Noi abbiamo fatto dei muti fino all'anno 2012, perché dal 2012 non facciamo più muti, che tra l'altro parte dei quali abbiamo anche estinto anticipatamente, e tra l'altro tutte le somme sono oggi appostate su quei singoli capitoli, cercando di dare un cambiamento a un volto di una città come Andria, anche perché c'erano delle opere che necessitavano e andavano completate. Credo che l'attenzione debba essere posta soprattutto sull'attenzione di quando si fanno questo tipo di operazioni. Io, guardate, ma ve lo dico senza, credo che non vada fatta polemica e non vadano strumentalizzate queste cose, perché dobbiamo cercare di far capire ai cittadini dove si commettono gli errori e dove bisogna fare in modo di non commetterli più. Facciamo un esempio. Nel 2006 il preanno di recupero urbano di San Valentino è stato approvato dal Consiglio Comunale di Andria, con un accordo di programma sottoscritto presso la Regione Puglia. La valutazione riportata all'interno di quella delibera e le somme accantonate su quella delibera, in base a quel progetto, prevedevano l'esproprio a 10 Euro il metro quadrato dei terreni di San Valentino. Nel 1998 il Comune di Andria ha fatto delle transazioni con i proprietari delle aree di San Valentino, su cui poi furono edificati gli edifici dello IACP, a 90 mila lire il metro quadrato. Allora vai a transigere a 90 mila lire il metro quadrato e nel 2006 fai una previsione, come diceva correttamente Gianni, di 10 Euro al metro quadrato. C'è qualcosa che non funziona. Tant'è che i decreti giuntivi e i ricorsi arrivati hanno dimostrato pienamente il gravissimo errore commesso. Diciamo che fu un espediente per rimandare il pagamento. Quindi bisogna avere attenzione quando si amministra nel fare le cose che si possono fare cercando di dare un valore idoneo alle cose che si fanno. Facciamo un ulteriore esempio. Noi abbiamo espropriato per realizzare il primo stralcio di via Biceglia delle aree e quelle aree che è una zona F, quindi non è una zona che prevede i volumetrii di un certo tipo, le abbiamo pagate a 40 Euro il metro quadrato. Guarda caso di ricorsi ad oggi non ne sono arrivati. quindi significa, oppure se arriveranno non lo sappiamo, ma certamente è un prezzo congruo, un prezzo congruo stabilito con l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta dei valori di mercato delle aree riportate in titoli di proprietà e quindi certamente con un dato di fatto. Non siamo andati a dire che oggi paghiamo a 40 Euro qualcosa che 20 anni fa invece abbiamo in realtà riconosciuto a 100 mila lire. Questo è il ragionamento su cui bisogna, ho cercato di fare un esempio per far capire. È stato chiarissimo. Cosa si replica a queste affermazioni? Allora, io penso che... Chiedo scusa, spiego ai nostri telespettatori che sto dando un po' più di spazio all'assessore di Noia perché è uno contro due, non per sua scelta, quindi avevamo invitato ovviamente un altro rappresentante. L'uno contro due onestamente, dottore, come termine diciamo che non è proprio, voglio dire, non mi piace questo uno contro due. Certamente, no, no, no. Diciamo che si ribatte... Deve far fronte a due obiezioni. Benissimo, benissimo, si ribatti con tranquillità. No, no, ma in effetti la tranquillità, voglio dire, fa parte un pochino del mio mondo e questa tranquillità mi porta a disquisire su alcune considerazioni fatte dall'assessore di Noia. La prima è che è prassi di questa amministrazione, ormai fa parte del loro modo di presentarsi alla città, alla gente, ai mass media, cioè che quello che viene realizzato in questa città da quasi cinque anni a questa parte è positivo ed è opera loro. Tutto quello che invece è negativo riflette di questioni che non appartengono a questa amministrazione. Mi spiego meglio. Se oggi c'è un problema e questo problema loro non sono riusciti a risolverlo, è un problema che risale alle amministrazioni passate, ci sono stati degli errori fatti in passato, cioè quello che ha detto l'assessore non ha aggiunto nulla di nuovo a quello che sentiamo dirci negli ultimi anni sia in consiglio comunale che ovunque, cioè che l'amministrazione passata sul sistema Italgas ha iniziato un percorso, ma che loro secondo me, forse usare il termine degenerato è un po' pesante, però comunque è un termine che dà l'idea della questione Italgas. Io personalmente in consiglio comunale nel 2012 avevo posto proprio in evidenza la sovradimensione della somma posta, però mi fu risposto in consiglio che i conti erano quello e che quello era il sistema e oggi sappiamo invece che c'è un problema, c'è un problema di soldi. Chi vi parla si pone con l'ambizione di poter governare questa città nei prossimi cinque anni, perciò noi siamo molto preoccupati della Corte dei Conti, che non è un organo politico, non lo è a Bari, non lo è a Roma, perciò su questo ci mancherebbe, di squisire su quello che saranno onestamente, cioè la decisione della Corte dei Conti, di cui aspettiamo. Il sentore è che non ci sarà questo patto, lo sforamento del patto di stabilità, ma questa è una cosa che può far piacere a tutti, può far piacere a chi magari si candida ad amministrare la città. Almeno ci sarà qualcosa da amministrare. Perché oggi uno dei nostri problemi principali, sa qual è, è quello di amministrare non avendo poco, ma non avendo nulla, perché qui è ormai sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione ha gravi problemi di insolvenza verso tutti, verso fornitori. Parlava prima l'assessore di via Biceglie, ma a me risulta che nessuno è stato ancora pagato, perlomeno molti. Allora è logico che nessuno viene pagato e perciò non ci sono i ricorsi. Io conosco 4 o 5 proprietari che hanno avuto l'esproprio e che non hanno beccato un euro, e non so quando lo beccheranno questo euro. Questa amministrazione paga i fornitori, diciamo quasi a scadenza annuale. Lei immagini cosa significa questo per un'azienda? Cioè mandare in crisi. E qui mi vorrei collegare al motivo del perché. Io non sono un tecnico di bilancio, non sono né un commercialista, però mi appassiona la politica. Allora io vorrei parlare della qualità della vita di questa città, che negli ultimi 5 anni è questo quello che poi è qui, come dire, c'è la diversa opinione tra chi è amministrato e chi invece è stato all'opposizione. Loro dicono che questa città ha avuto un salto di qualità, io e chi magari ha con me fatto un percorso di 5 anni di opposizione, dice che questa città è ferma, è ferma nella progettualità, è ferma nella qualità della vita, è ferma nei punti importanti di una persona. Io reputo il primo posto di un capofamiglia che non ha la dignità del lavoro, perciò un elemento fondamentale è il lavoro, un altro elemento fondamentale è la salute. Noi in questi ultimi periodi stiamo avendo un innalzamento dei tumori, questo non è che deve essere addebitabile all'amministrazione, però comunque non si fa nulla. Cioè il problema principale è che l'ASD, l'amministrazione non fa nulla. Per capire, si parlano di notizie di falde acquifere inquinate. Però attenzione quando usiamo questi termini perché non vorremmo creare allarme sociali. No, ma sono notizie che sono state pubblicate dalla Gazzetta o altro. Sì, però attenzione, l'unico studio attualmente esistente, che è vero che risale al 2008-2009 ed è stato compiuto dall'ASL su tutto il territorio della provincia Bat, ha riscontrato che all'epoca, quindi ha fatto una fotografia che però sono gli unici dati attualmente disponibili, il livello dei tumori in Puglia, o meglio, nella Bat, non si discosta da quello pugliese ed è al di sotto di quello generale che c'è in Italia. Quindi, poi nelle famiglie sappiamo cosa accade. Ecco, perfetto. Perciò io mi preoccupo perché i dati sono leggermente diversi. Da quello che io leggo è che purtroppo qui in città c'è questa paura. Ecco, di questo possiamo parlare. È un timore... Ma bisogna parlare, bisogna parlare delle cose purtroppo brutte, no? Come questo problema che attanaglia oramai, diciamo, quest'ultimo decennio di questa malattia. E voglio dire, allora, dicevo, il lavoro, la salute, la sicurezza. Cioè, in questa città la sicurezza è aumentata, è diminuita. Queste sono le questioni di cui io onestamente mi voglio preoccupare. Oltre al fatto dei soldi, perché poi alla fine, come in ogni buona famiglia, se non ci sono soldi è difficile andare a fare la spesa. E allora, ci arriviamo subito. Le opposizioni dicono, se noi dovessimo arrivare ad amministrare Andria, saremmo dei curatori fallimentari? Allora, io... A me questo è un termine che appassiona pochissimo. È una questione che mi appassiona pochissimo, perché diventerebbe troppo facile rispondere. Perché ci sono i documenti, quindi uno risponde con i documenti, perché così bisogna fare. Quando è arrivata l'amministrazione Giorgino, è arrivata una anuta del settore finanziario del Comune di Andria, dove c'erano 47 mila euro in cassa. Il Comune di Andria ha una spesa mensile di servizi, quindi inderogabili, tra gli stipendi dei propri dipendenti. Gli stipendi della multiservice, che ormai non è più una società in cui questi dipendenti sono a carico della società, ma sono dipendenti pubblici. Servizi essenziali, trasporto, pubblico illuminazione, un altro, di 2 milioni e 900 mila euro al mese. Capisce bene che c'era un problema. Tant'è che poi, qualche mese dopo, andammo in Consiglio Comunale, riconoscendo un debito dei famosi 3 milioni delle bollette. Ma guardate, dico che non mi appassiona, perché io sono uno di quelli che crede che la continuità amministrativa, a prescindere da chi sia vicendi nella propria amministrazione, deve riconoscere i debiti che ci sono, debba riconoscere le somme che invece vanno pagate alle persone. La stessa identica cosa è sulla difficoltà della liquidità. Credo che sia un caso che ormai accomuna tutti gli enti locali. Cerchiamo di capire il perché. Io vi ho fatto un esempio su quello che erano i trasferimenti. Ma non per dire le difficoltà che ha il Comune di Andria, le difficoltà che ha qualsiasi ente locale. Tenendo conto che agli enti locali, a furia di deroghe, ci sparano degli ulteriori mansioni, parlo per quello che per esempio ci riguarda, dal Genio Civile, alla comunicazione dei vigili del fuoco e a quant'altro, che comunque portano tutti gli enti locali in questo momento a essere in difficoltà. Basta pensare al paradosso delle province, che da una parte si pensa ad eliminarle, però da un'altra parte hanno ancora i propri servizi dentro. E gli si aggiungono manzioni. Pubbliche istruzioni come le scuole e le superiori, strade, viabilità, ma quant'altro, manutenzione delle stesse, senza avere più le risorse per poter fare determinate cose. È un po' paradossale quello che sta accadendo. Ma cerchiamo quindi di capire come risolvere queste problematiche. Le problematiche si risolvono in modo molto semplice. 2010, quindi, inizio, spesa corrente del Comune di Andria, 68 milioni di euro, 2014, ultimo bilancio presentato come petizione, spesa corrente, 10 milioni di euro in meno, cercando di tagliare il più possibile, perché noi dobbiamo continuare a tagliare tutto ciò che serve. E sono i 10 milioni in meno del trasferimento dello Stato? Sono un parte di 10 milioni in meno del trasferimento dello Stato e parte il fatto di continuare a mantenere gli standard di servizi che il Comune di Andria ha, perché noi dobbiamo essere obiettivi. Il Comune di Andria, se andiamo a vedere rispetto ad altri comuni, ha delle spese, dei servizi sociali e altri, come per esempio anche le stesse scuole paritari, che gli altri comuni non hanno. Le interrompo per un motivo. Giovanni Daldario però ha posto anche dei problemi... A Dario, chiedo scusa. A Dario. A Dario. Giovanni Daldario ha posto anche dei problemi specifici. Sì. Andria è più sicura o meno sicura di 5 anni fa? Un attimo. Andria si vive meglio o si vive peggio di 5 anni fa? La qualità della vita è aumentata o migliorata? Allora io parlo... O peggiorata? Io parlo ovviamente avendo una mia idea personale. E naturalmente. Ognuno di noi ha le proprie idee. La mia idea personale è che la qualità della vita in questa città sia migliorata in questi 5 anni. Per diverse motivazioni. E non voglio, tornando su altre cose che diceva Gianni, riferita al pericolo, alla salute e quant'altro, non voglio nemmeno cercare di allarmare nessuno. Però partiamo proprio da questi dati. Qualità dell'ambiente, qualità della vita, sicurezza. La sicurezza è secondo me un fenomeno che purtroppo io sono abituato ad ammettere quali sono le problematiche. Credo che necessiti ulteriormente di ulteriori sforzi da parte di chiunque andrà ad amministrare questa città. Sulle altre cose io, credetemi, sono veramente poco d'accordo. Cercherò di farvelo capire con i fatti. Noi siamo arrivati e abbiamo gestito questi ultimi 5 anni. Io non voglio usare il noi. L'amministrazione ha gestito questi 5 anni arrivando e, come tutti quanti noi sappiamo, avevamo e abbiamo tuttora una discarica che è stata oggetto di ampliamento tra il 2007 e il 2009, ampliamento che non è andato ancora in funzione, grazie a Dio, e che è uno dei motivi per cui oggi la città di Trani si trova in una difficoltà enorme. Stiamo parlando di un territorio che ha una discarica a pochi chilometri, forse più vicino alla nostra città che vicino all'abitato della città di Trani. Quindi la cultura di cercare di diminuire il più possibile le entità di rifiuti che si portano in discarica credo che ci abbia portato oggi ad ottenere comunque come città un risultato importantissimo. Nel senso che evitare che possano esserci nuove discariche e evitarne ampliamenti permetterà comunque nel futuro spalmato nella lontananza degli anni a cercare di risolvere definitivamente questo problema. Lo si fa facendo il porta a porta come andrebbe fatto in qualsiasi città d'Italia. Primo problema. Secondo problema. Noi abbiamo concluso, abbiamo presentato e credo che andrà in Consiglio Comunale il regolamento attiso che so che il settore ambiente lo ha terminato qualche giorno fa il piano elettromagnetico della città. Allora, vediamo quante antenne abbiamo montato in questi anni nella nostra città. Vediamo cosa è accaduto in un determinato periodo adesso a prescindere da quale amministrazione c'era così cerchiamo anche di non dare colpi a nessuno. Va bene? Però se uno va a prendersi i dati scopre che in questa città tra il 2004 e il 2009 vengono montate 79 antenne. Tra il 2010 e il 2014 attualmente ne vengono montate tre con l'implementazione di altre sei. Dove voglio arrivare? In quel momento il settore delle telecomunicazioni spingeva al massimo perché si facessero antenne. Cos'è mancato alla nostra città? Però sono cambiati anche i sistemi. Sì, sì. Guardiamo cos'è mancato. Così diciamo cerchiamo io sono abituato, ripeto, a fare analisi asettiche senza dare responsabilità a nessuno. È mancato e oggi dobbiamo mettere subito riparo e se non facevamo il piano elettromagnetico non si poteva mettere riparo. Noi abbiamo antenne che sono tutte su proprietà private. Sono su condomini sono su aree di privati. Quindi se voi guardate degli esempi delle città limitrofe noterete che più dell'80% di quelle città non permette a nessuno di montare antenne su proprietà private. Le antenne vanno montate su proprietà comunali. Perché? Perché se io monto su uno svincolo un palo si chiamano i pali faro, no? Un palo al centro dello svincolo lo porto a 25 metri di altezza ho ottenuto due cose innanzitutto sono non sotto o non nelle vicinanze di aree diciamo vissute non solo gli appartamenti parliamo anche di edifici scolastici parliamo anche di ospedali parliamo di qualsiasi cosa due con quell'ottenimento ho io un canone e tre faccio anche l'opera pubblica che serve per illuminare quello svincolo faccio un esempio e credo che queste siano le cose a cui bisogna pensare ce ne sono tantissime guardate quando si parla di finanze quando si parla di difficoltà a me appassiona non dire colpa mia è colpa tua tu sei stato più bravo tu sei stato più ciuccio tu sei spregiudicato io no no noi dobbiamo pensare a quello che è il futuro di una nostra città per farla continuare a crescere per darle un'ulteriore spinta e per dei problemi che avremo cioè noi come città tutte in Italia avremo dei problemi gravi io guardate la Puglia la regione Puglia ha approvato non più tardi di 15 giorni fa il nuovo piano paesaggistico il PPTR piano paesaggistico tematico regionale che è il primo piano dell'Italia che è stato sottoscritto dando onore in merito all'assessore Valvanenti di cui con cui io ho un ottimo rapporto però guardate è stato sottaciuta una caratteristica il PPTR non essendo il PTT sono parolacce che vengono utilizzate per chi non è amante del mestiere mentre il piano precedente è un piano a livello regionale questo è un piano a livello regionale e ministeriale quindi significa che qualsiasi vincolo che viene introdotto come ulteriore contesto essendo un vincolo concordato con il ministero non permette a nessuno di poter richiedere richiedere dei danni per il vincolo che sta subendo bene questo lo dico a Gianni che è Vurchio che è della materia noi avremo un problema il problema è il seguente entro 12 mesi tutti i comuni dovranno adeguare dal giorno di pubblicazione di quel piano il proprio piano al PPTR il PPTR ha una tavola il proprio piano urbanistico quel PPTR ha una tavola che si chiama il piatto città-campagna in ulteriori contesti in cui ha preso tutta la Puglia analizzato tutte le città ai fini di non consumare ulteriori territori ha detto dove restringere le zone e quindi dove andare a far ritornare agricole territori tipizzati invece in altro modo bene Andrea che ha un piano regolatore estremamente sovradimensionato lo sappiamo tutti perderà oltre il 40% del proprio territorio tipizzato adesso chiedo a Gianni diciamo pensando che questi devono essere secondo me le attività che devono impegnare tutte le categorie e forze politiche che anche oggi si vanno a proporre alla città noi prendiamo l'Imu comuni italiani dal 95 sulle aree fabbricabili è giusto? perdere il 40% delle aree fabbricabili significherà avere un gettito inferiore io mi auguro che l'Imu sui terreni agricoli non venga confermato da questo governo è stata la proroga ma non venga confermato perché lo ritengono un tipo di ingiustizia bisogna trovare il modo come far recuperare quelle somme perché i modi sono due lo sai meglio di me o elevi una tassazione oppure cerchi comunque un modo ancora più virtuoso di creare economia allora a me questi sono i temi su cui mi piacerebbe discutere poi se vogliamo discutere su quello che sarà vediamo perfetto ha chiamato in causa Giovanni Burchi no io mi piace sentir dire dall'assessore oggi a termine dell'amministrazione che di questo vuole parlare perché in consiglio comunale chi segue purtroppo ai noi per cinque anni ha seguito pochissimo il consiglio comunale perché questa amministrazione ha avuto la grande abilità non solo di annullare le liste di collocamento ma anche diciamo di annullare la trasmissione in diretta del consiglio comunale e quindi in streaming poche persone vanno a vedere lo si può lo si può naturalmente quindi vedere dal momento in cui ti colleghi lo abbiamo detto io il sottoscritto ha sempre ribadito al sindaco di essere a disposizione siamo 40 consiglieri eletti dalla città di destra e di sinistra maggioranza opposizione dove ogni consigliere può dare il suo apporto noi dell'opposizione non siamo stati mai chiamati in causa e nel momento in cui abbiamo dato anche dei pareri o delle soluzioni ad alcuni problemi con una semplice alzata di mano perché voglio ricordare che questa amministrazione ha avuto per 5 anni il 70% del consiglio comunale nelle sue mani il 70% e quindi tutto ciò che passava dalla vecchia amministrazione dalla opposizione venivano snobbati totalmente ecco perché fanno per il momento infatti diciamo sento sempre più adesso di meno parlare di dire ma le opposizioni dove erano? Ecco le opposizioni stavano qua c'è le opposizioni che facevano opposizione ma che in realtà non avevano nessun ruolo perché bastava che il sindaco per prima alzasse la mano che tutti i consiglieri andavano diciamo in maniera conseguenziale ad alzare la mano e quindi tutte le nostre osservazioni venivano snobbate ecco perché dico mi meraviglio che oggi l'assessore di Noia ci chiama in causa ci chiama in causa e io sono pienamente d'accordo io chiamavo in causa chi oggi deve presentare i programmi per andare a governare chi deve presentare il programma sarà sicuramente un programma più equilibrato rispetto perché il vero problema caro Gigi di Andria che si trova in una situazione di grave io ancora oggi nonostante non ho letto parlo di predisesto finanziario perché parlo di predisesto ti spiego subito perché se una cooperativa se una piccola aziendina non riesce ad incassare 100 euro perché io l'ho detto 15 giorni fa e lo ribadisco ancora oggi 100 euro di dicembre 2014 non siete in grado di pagare una fattura per servizi ricevuti 100 euro si sta chiedendo lo spostamento all'anno 2015 della fattura ma ci rendiamo conto di quello che facciamo stiamo parlando di 100 euro mi assumo la responsabilità di quello che dico una fattura di 100 euro come si fa un comune ad essere credibile per questo io dico solo questo vogliamo parlare dei lavori pubblici che sono tutti fermi perché non riuscite a pagarli e quindi mettere in piedi una serie di cantieri anzi mi dispiace che l'assessore non c'è perché di questo volevo parlare mettere in piedi una serie di cantieri per far vedere che la politica funziona quando in realtà non ha le potenzialità per poter funzionare vale la pena fare questo illudere la gente di questo dobbiamo parlare anche perché quando parliamo dell'economia o del PPT o del PUT perché è un modo per sviare sulle problematiche della città caro Gigi il problema è questo e allora noi dobbiamo parlare parliamo di questo io parlo di questo come parlo di tanti altri modalità che ci sono sul territorio per far cominciare a camminare l'economia perché nessuno è stato chiamato da voi questo è il grave errore sia nella campagna elettorale di 5 anni fa dove avete fatto dei programmi megalomani e non riuscite a venire guarda che se li leggiamo l'80% sono stati realizzati non sono stati realizzati niente caro Gigi perché nel momento in cui mi si apre un mondo Gigi mi si apre un mondo perché io amo parlare delle cose concrete se poi vogliamo ancora una volta prenderci in giro io sono molto più concreto di te se vogliamo cominciare a prenderci in giro e te lo dimostrerò adesso anche perché la gente lo vede abbiamo dei lavori fermi quasi da 5 anni abbiamo un lavoro sulla pineta fermo da quasi 5 anni e perché? perché non avete fatto una previsione a quei lavori e le aziende sono ferme e paghiamo ogni giorno come no? abbiamo l'aria mercatale il sindaco 5 anni fa in una trasmissione e la posso rimandare di Teledeon dichiarava che se non fosse stato in grado di realizzare il teatro per questa città e se non fosse stato in grado di realizzare l'aria mercatale si doveva dimettere e quindi lo sta facendo e non si deve dimettere ma non ha fatto niente perché abbiamo da pagare un sacco di soldi ma chi devi pagare? la gente non riesce a pagare i contributi dei propri dipendenti ma vogliamo parlare delle cose chiare o vogliamo parlare o vogliamo parlare delle fesserie o vogliamo parlare delle fesserie se vi collegate sul ministerio io l'ho detto 15 giorni fa collegatevi sul ministerio del MEF SIope guardate i debiti del regolarizzare del comune di Andria a seguito dell'imborso anticipazione di cassa per 52 milioni e 600 mila euro sono realtà o sono frottole e di questo voi non parlate non esiste nella storia un'amministrazione che si è indebitata per 52 milioni di euro non esiste sulla storia fratelli miei di questo dobbiamo parlare e di questi parliamo dei problemi che dovremmo assumerci con grande difficoltà ricollegandomi alla qualità della vita che intendavamo prima l'assessore parlava ad esempio sull'esproprio di San Valentino c'è un piano che comunque arriva da molto lontano tu lo sai benissimo anche questo però io oggi vorrei andare a San Valentino e chiedere agli abitanti di San Valentino se la loro qualità della vita è migliorata è migliorata oppure è peggiorata sempre una piccola Venezia quando piove sembra una piccola Venezia quando tu parli di lavori portati cioè tagliati iniziati e poi non portati a tempo San Valentino è l'emblema allora oggi io vorrei parlare con gli abitanti di San Valentino e dire voi state meglio o peggio di quando sono iniziati i lavori loro oggi sono segregati no no ma tanto la domanda è unica loro sono segregati in casa la domanda è unica perché loro un attimo la domanda è unica prima a Giovanni Vurchio che ha fatto un rilievo anzi ne ha fatti due particolarmente pesanti 52 milioni di euro di debiti no lo dico io sta su sì ma io non ho nessuna responsabilità pubblicata dal ministero ovviamente ovviamente però ha posto un problema c'è il visto del tesoriere quindi non è che lo dice Giovanni Vurchio ha posto certificati dal tesoriere perfetto ha posto un problema un attimo soltanto primo problema un attimo soltanto il secondo problema che ha posto è tutte le opere che avete cominciato di fatto sono ferme perché non siete in grado di pagare nessuno ma lo dice la città lo vengono a dire a noi però sentiamo lo dice la città e lo vanno a dire all'opposizione è chiaro e diciamo evidentemente è così c'è una verità assoluta invece la verità assoluta io sono sempre abituato a ripetere è quella che va vista nella sua realtà io cercavo di essere stato diciamo chiaro all'inizio ma vedo che non lo sono stato quando si dice che io vado sul MEF e ho 52 milioni di anticipazione di mutuo di quant'altro da pagare sembra che le abbia fatti questa amministrazione scusami Gianni nel 2010 dal 2010 al 2015 sembra che questa amministrazione abbia prodotto 52 milioni ben 52 milioni di euro da pagare cioè stiamo parlando di cifre assurde e sapete qual è la dimostrazione è semplicissima il comune di Andrea come altri comuni nel 2012 ha acceduto a parte di quei 52 milioni che diceva il consigliere Vurchio a una richiesta di 24 milioni di debiti da pagare prendendo un finanziamento di 15 milioni in due tranche un anno 7 milioni e mezzo e l'altro 7 milioni e mezzo facendo un mutuo al 2040 per il pagamento dei debiti di spesa corrente del comune di Andrea beh guardatevi l'elenco tanto era pubblicato e per legge andava pubblicato quell'elenco quell'elenco di quell'elenco i primi 6 milioni e 8 erano adeguamento dei prezzi dovuto riconosciuto riportato nel bilancio di previsione consuntivo dal 2006 in poi della Manutenco qui il comune di Andrea continua a pagare debiti della Manutenco abbiamo pagato debiti rinvenienti da scuole realizzate cause avute ma sono debiti accertati che tutte le amministrazioni in continuità correttamente le hanno dovute per forza approvare come debito fuori bilancio e chi ti dice di no? Gianni io ti ho detto che le amministrazioni vanno in continuità e in continuità tieni presente che questa amministrazione ha pagato un milione e otto del decreto Falcucci per le scuole dove oggi stanno i nostri vicini ma di che cosa stiamo parlando? quindi quando parlate di 52 milioni dovete prendere dal 1992 ad oggi scusami Gianni eh no li riprende dal 1992 ad oggi e stampale e vedi quali erano quei debiti perché questa è la verità chiedo scusa adesso vorrei invece ribattere sulla questione delle opere pubbliche mi dispiace che non ci sia la sessione delle opere pubbliche però qualcosina la conosco anch'io perché noi dobbiamo essere onesti e dobbiamo dire le cose come sono se dobbiamo fare politica cercando di andare nei quartieri di Andria e in questo momento di difficoltà pensare che in questo modo si possono raccogliere consensi fatelo pure non è il mio stile il ragionamento che io faccio è un altro le opere pubbliche parliamo di nessuno assessore la devo bloccare un attimo dobbiamo dare la linea alla regia per qualche secondo non andate via perché torniamo subito con l'assessore di Noia che continuerà a raccontare questa storia di Andria linea alla regia rieccoci in studio seconda parte di questa ventesima puntata di diritto e rovescio stava parlando l'assessore di Noia su alcuni argomenti molto importanti in particolare sulla questione relativa alle opere pubbliche in città ma prima di dare la parola ancora all'assessore di Noia salutiamo l'assessore Antonio Nespoli assessore alla cultura del comune di Andria che ci ha raggiunto era impegnato nelle vicende del FAI di primavera quindi ovviamente lo ringraziamo per averci raggiunto anche se soltanto nello scorcio finale di questa trasmissione assessore di Noia sì eravamo rimasti a cercare di dare una risposta su quelle che sono le opere pubbliche sia i consigli di Vulchio il consigli di Raddario dicevano che le opere sono ferme in realtà perché il comune non paga insomma la sostanza è questa mi sembra che sia estremamente scorretto generalizzare in tal senso cerchiamo di fare degli esempi reali così sono anche gli stessi che sono intervenuti ahimè prefero tramviare in questi anni allora uno dei timi che più appassiona ultimamente i social o i giornali è quello di dire che sotto elezioni si concludono cantieri si aprono cantieri si parte ma perché siamo sotto elezioni beh se così fosse diciamo io vorrei che ci fosse le elezioni ogni giorno la verità è un'altra la verità purtroppo è un'altra adesso guardiamo quello che accadrà a San Valentino e quindi sarà facilmente strumentalizzabile nei prossimi giorni tutte le opere delle urbanizzazioni primarie secondarie previste nel più di San Valentino sono state erano previste con tre stralci noi le accorpammo d'accordo con la regione in un primo e secondo stralcio unendo al completamento delle opere dopo ultimati i sottoservizi la pubblica illuminazione e le aree avverte il primo stralcio fu ultimato e quindi fu diciamo concluso così come concordato con la regione fu fatto un nuovo bando questo avviene nel 2012 fine 2012 viene fatto un nuovo bando viene fatta una giudicazione a fronte di quella giudicazione intervenuta 14 mesi fa c'è il ricorso dell'azienda seconda in graduatoria ricorso al TAR sei mesi consiglio di stato quattro mesi e mezzo dopo 14 mesi arriva una sentenza definitiva che conferma l'aggiudicazione alla prima di quelle aziende bisogna rifare tutta la documentazione che viene prevista al momento della sottoscrizione quindi tutte quelle che sono le certificazioni antimafia ad urc ma non li fate tutte quante insomma in sostanza cosa accadrà accadrà che fra un paio di settimane vedremo riprendere i lavori a San Valentino ovviamente dirà qualcuno perché siamo sotto elezione andiamo adesso a via Biceglie beh voi avete visto che siamo stati abbastanza veloci se ricordate i lavori di realizzazione di quello poi ci sono sbancati perché? adesso cerchiamo di capire perché a parte dei lavori che andavano fatti sotto per quello che riguardava il raccordo delle acque complesso il pluviale che arriva da via Maraldo e che dovrà ancora girare per via Biceglie e che non può girare in via Biceglie fino a quando non viene almeno ultimata una parte di quella altrimenti chiude una strada che sarebbe vitale si è andato e è partito non più tardi di 21 giorni fa il cantiere di Andrea Sud tre settimane fa il cantiere di Andrea Sud insieme a quella rotatoria a quella viabilità quindi il raddoppio della viabilità su via Biceglie fino a quel tratto e la rotatoria sono connessi tecnicamente perché la strada di penetrazione che arriva da su è a carico di Ferro Trambiari Ferro Trambiari deve sbancare quella parte di collina che vedete di fronte per far scendere quella strada se Ferro Trambiari non sbanca capite bene che andare a ultimare una cosa che il giorno dopo verrebbe praticamente distrutta da chi sta facendo delle opere importantissime per la nostra città vedrebbe questa problematica non c'è un coordinamento il coordinamento c'è e c'è benissimo no no scusami ha fatto una bellissima domanda ed è un coordinamento che nasce da anni cioè noi dal primo giorno siamo stati coordinati con la Ferro Trambiari però cos'è accaduto luglio 2013 Ferro Trambiari fa il bando e fa la giudicazione per la stazione di Andrea Sud stiamo parlando di un anno e sei mesi fa ricorso della seconda ditta al TAR ricorso al Consiglio di Stato Andrea Sud risultato finale è partita con 16 mesi di ritardo queste sono le realtà delle cose poi se qualcuno dice che oggi ha il potere il comune di Andri di modificare delle leggi dello Stato no 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 ascolta di fare che cosa qui ritorniamo di nuovo al discorso che abbiamo detto prima quando va tutto bene è colpa è roba nostra e con i soldi di chi allora c'è il ricorso al TAR la Ferro Trambiari è un finanziamento di un progetto stiamo parlando di un progetto che è partito e che era stato inserito in un piano che era 2006-2013 voi state qui da 5 anni all'amministrazione ma se nel 2010 questa amministrazione si è andata a sedere in regione e non era fatta ancora la via del grande progetto Vavari Nord ma non il comune di Andria tutti i comuni interessati nel fine 2010 sono state rilasciate autorizzazioni regionali ma dal 2007-2010 si è provveduto come no? io dal 2007 non so dove stai io ti dico solamente una cosa che purtroppo senza autorizzazione in Italia i progetti non partono questa legge che voi dite non esiste quando la regione Puglia d'accordo con Ferro Trambiari decide di utilizzare non per il comune di Andria per l'intero grande progetto perché anche il comune di Barletta si trova nella stessa situazione decide di utilizzare parte delle somme utilizzandole nel periodo e quindi nel range dell'ultimazione del 31-12-2015 per non rischiare di perderlo quel finanziamento Ferro Trambiari e Regione decisero anche di prendere una parte e di portarlo al 2014-2020 come FESR europeo questa è la vera motivazione è stata fatta con responsabilità poi l'Italia è formata di avvenimenti vorrei ricordare a tutti voi che sono interessati ai lavori della Bari Nord comuni come Corato o come Barletta Corato e Barletta vi vorrei ricordare che non hanno avuto la fortuna dall'amministrazione di Andria di fare cinque anni in continuità sono caduti i sindaci ci sono stati i commissari Corato no semplicemente è capitato è capitato anche lì è capitato anche lì è capitato anche lì quando il sindaco Perrone ha lasciato il mandato al sindaco Bucci il sindaco Bucci poi a un certo punto però diciamo che era l'anatrazzoppa già era in partenza però è accaduto e quindi questo significa che i consigli comunali non deliberavano gli atti necessari finalizzati a determinate cose tenendo presente che Ferro Tronviare ha dovuto rincorrere i desideri di ogni singolo amministratore di una città trattandosi di un progetto che stravolgeva guardate quando si dice è mio è tuo per carità io non so se è mio non so se è suo ma io so solamente una cosa e di questo ne sono certo che se andiamo a chiedere a qualcuno degli attuali consiglieri comunali di Andria com'è il progetto della Barinolga nella fase dell'interamento io credo che lo conoscano pochi o meglio lo conoscono così come immaginato nel 2007 è completamente cambiato con cui la Ferro Tronviare ha dovuto comunque rivedere determinate cose nel 2007 non era stato previsto che si riduceva la sezione del treno che in poche parole è quello che voi oggi vedete lateralmente binari che è di proprietà demaniale diventa di proprietà comunale quella proprietà comunale cosa si fa cosa bisognava fare entriamo entriamo troppo nel dettaglio però un attimo soltanto chiamo in causa l'assessore Nespoli perché prima nel corso del dibattito è emersa una domanda di fondo che è quella diciamo che si devono porre tutti i cittadini andresi andando a votare ad Andria si vive meglio o si vive peggio di cinque anni fa? Beh io credo che sia sotto gli occhi di tutti il cambiamento che questa città ha avuto in questi cinque anni è una trasformazione io credo che non si sia mai registrata nel corso degli anni passati pur diciamo vivendo non soltanto la nostra città l'intera l'intera Europa non neanche soltanto l'intera Italia un momento di crisi e quindi con una serie di tagli che ci sono agli enti locali ma nonostante questo siamo riusciti ad intercettare importanti opportunità di finanziamento che sono tese a far fare alla città quell'ulteriore salto di qualità per poter diventare una grande città io credo che se qualcuno ecco rimette indietro la lancetta del tempo a cinque anni or sono credo che ricordi come nella nostra città una biblioteca comunale era locata in alcuni locali di Via Napoli ce n'era un'altra che era ferma nella realizzazione nel completamento quindi noi l'abbiamo completata l'abbiamo ultimata e l'abbiamo consegnata ai ragazzi che ora lì la frequentano c'è un nuovo asilo nido c'è una nuova piazza Duomo c'è un'officina a San Domenico realizzata prima ma che non era stata fatta partire perché il bando la partecipazione era andata deserta ma poi dopo si è messa in moto è anche impegnativo sostenere poi dopo l'apertura il mantenimento in vita di queste strutture e così tante altre opere nuove aree pedonali un nuovo sistema di raccolta differenziato ma tante tantissime iniziative soprattutto questo ci tengo a sottolineare garantendo il mantenimento di alcuni servizi importanti che caratterizzano una comunità una spesa sociale che non ha precedenti e non ha pari negli altri città anche lì in presenza di una forte contrazione dei trasferimenti da parte della regione noi invece abbiamo una spesa di oltre 6 milioni di euro abbiamo una serie di servizi che offriamo nel campo della pubblica istruzione che io ecco veramente credo che noi come cittadini come amministratori dobbiamo essere tutti quanti insieme contenti che riusciamo ancora a garantire e che da altre parti basta fare un piccolo raffronto non riescono più a garantire e tagliano o una cosa o tagliano l'altra noi stiamo cercando di mantenere alta la qualità continui interventi manutentivi dappertutto quindi io penso che la città che abbiamo ereditato 5 anni fa sia notevolmente cambiata rispetto a quella che noi oggi lasciamo in eredità e al confronto spero positivo costruttivo per poter immaginare altre progettualità che ripeto possano far fare quel salto di qualità importante e questo è il punto dovevamo arrivarci un po' prima in questa trasmissione ma ci arriviamo comunque e poi naturalmente tenete cotto che si vota tra 80 giorni quindi avremo ampio margine di tempo per affrontare questo argomento inevitabilmente nelle prime trasmissioni si punta più a fare il bilancio dell'esistente che a immaginare il domani ma per chi si propone alla guida di questa città qual è l'immagine che dovrà avere domani Andria cominciamo con Giovanni Vurchio quali sono le idee che portate all'attenzione dei cittadini il suo stesso termine diciamo dell'assessore Nespoli è sotto gli occhi di tutti Andria veramente è sotto gli occhi di tutti di come è peggiorata negli ultimi cinque anni se non ricordo male qualche giorno fa è peggiorata facevo un'intervista proprio con Teledeon dove mettevo in evidenza mettevo in evidenza io uso il termine e continuerò a usarla la superficialità di questa amministrazione che fa le piste diciamo ciclabili e non ci sono le biciclette che paghiamo un canone di assistenza per il bike sharing pari a 6.800 euro al mese più IVA e non ci sono le biciclette che abbiamo un servizio di raccolta e paghiamo il contributo per aver superato la percentuale di raccolta differenziata e lo diamo alla San Galli non ai cittadini e poi il sindaco superficialmente perché questa è la caratteristica del sindaco Giorgino che parla con superficialità come se oggi quando lo sentiamo parlare lo sentivo l'altro giorno su Telesveva parlava in una maniera incredibile come se nulla è accaduto in questa città è tutto positivo straordinario c'è i giovani che sono entusiasti dell'amministrazione un centro storico fosforescente e non parla invece di tante problematiche che ci sono legate quindi la superficialità con la quale affrontano i problemi perché lo si sente parlare da ognuno di loro però la domanda mia la domanda è questa il programma il programma diciamo è garantire poche cose e sicure per questa città e non invece il fantascientifico programma di Giorgino irraggiungibile quindi la prima cosa sulla quale la prossima amministrazione lavorerà sarà soprattutto sulla sicurezza cittadina noi dobbiamo garantire arrivano ancora proclami non proclami diciamo degli aiuti una richiesta di aiuto da parte di parrocchie che cominciano a dire guardate cominciate a lavorare sulla sicurezza perché in questi anni la sicurezza è peggiorata mi ricordo quando sempre l'attuale sindaco Giorgino parlava di dire guarda sarà il punto di forza sarà la sicurezza è la città più insicura che possa esistere esistono furti di appartamento ogni giorno e questi ragazzi che compiono di tutto e di più parleremo del lavoro non esiste ancora questi ragazzi ad Andrea non riescono diciamo solo ad andare via ma non a restare sul territorio a meno che non facciamo parte di una certa diciamo di una certa parte politica altrimenti gli altri possono anche essere disoccupati cioè la terza cosa così come abbiamo fatto così come abbiamo fatto negli anni passati perché l'assessore Nespoli confermava nella precedente non voglio capire questa questione di far parte di una parte politica dopo te lo dico no no lo voglio capire adesso dopo progettare gli investimenti questa città loro in cinque anni non hanno progettato non hanno progettato uno investimento hanno tentato di portare a termini quei progetti che erano stati messi dall'amministrazione dalle amministrazioni precedenti e non li hanno ancora completati quindi questo è il grande aggravio e che poi io vedo questi scatti di fotografia che fanno durante ma di cosa parliamo? parliamo dello scatto della fotografia del museo rifatto quando i problemi della città sono enormi parliamo del museo rifatto quando non abbiamo una progettualità anche di come far partire l'economia su questo territorio mettere in rete le aziende creare delle opportunità per questi giovani creare cultura sul territorio cos'è la cultura dell'imprenditoria non esiste in questa amministrazione come facciamo a far partire e più cercare di intercettare sempre di più quei finanziamenti che vanno alla direzione di portare risorse sul territorio quanti finanziamenti l'amministrazione di Giorgino non ha intercettato un comune limitrofo a quello di Andrea che è quello di Biceglie ha intercettato un finanziamento europeo che parlava di borse di lavoro che ha dato a tanti giovani Andrea non è stata capace di intercettarla Biceglie l'ha intercettato dove hanno lavorato molti ragazzi prelevati dalle liste di collocamento non da società private come fa ormai questa amministrazione perché questa amministrazione fa solo così nella raccolta abbiamo visto questa soluzione adesso nel public parking vediamo nella stessa soluzione non esistono le liste di collocamento prima c'era addirittura dei ragazzi che facevano tre mesi di lavoro e venivano scelte le liste di collocamento oggi non esistono più le liste di collocamento quasi è diventato inutile la sua presenza di cosa parliamo? di questo dobbiamo parlare come si fa a portare economia sul territorio per recuperare il gap del danno che esiste ed è inutile che continui a dire che provengono dalle amministrazioni precedenti io in qualità di capogruppo del PD e che devo fare chiarezza sul territorio ai miei elettori ma anche ai non miei elettori ho invitato l'amministrazione di Giorgino a confrontarsi con gli altri sindaci perché continua a dire che non si vuole confrontare allora quando non c'è il confronto vuol dire che si nasconde qualcosa l'abbiamo invitato più volte al sindaco Giorgino mettiti in campo ora che sta finendo l'amministrazione e visto che voleva confrontarsi non con la fascia del sindaco io l'avrei fatto al posto di Giorgino essere chiamato più volte in causa e non presentarmi al confronto pubblico con la gente dove io dovrò avere la capacità di dire all'altro sindaco che hai creato un danno economico anche tu se non abbiamo la capacità di fare questo vuol dire che abbiamo un difetto al nostro interno cioè mancanza di trasparenza e dove c'è la mancanza di trasparenza c'è dubbio e dove c'è dubbio c'è una questione naturalmente che la gente non riesce a capire allora è facile dire tanto questo provenga dal passato ma non hanno più l'anello al naso i cittadini perché quando si sono insediati e concludo loro hanno messo in evidenza i 3 milioni di euro rinvenienti dal mancato pagamento delle utenze Enel perché oggi vengono fuori 14 milioni 20 milioni possiamo dire tutto e allora abbiate il coraggio di venire pubblicamente io sarò il primo a prendere in esame quello che si dirà e dirò al mio elettorato di votare Giorgino se Giorgino è capace di dire che proviene dal passato questo sì lo farò lo farò perché io amo la città non amo la parte politica però io l'ho fatta parlare però avevo fatto un'altra domanda vi prego rispondete alle domande che vi facciamo pochi punti e realizzabili investimenti l'attenzione alla cultura e soprattutto alla sicurezza sociale l'investimento sicurezza sociale e attenzione al lavoro per i giovani e soprattutto i miei giovani qual è l'andria del domani per Dario? mi rendo conto che allacciarmi dopo all'amico Gianni diventa difficile anche perché lui una volta che parte è come un treno e io mi sono soffermato mi sono il treno buona la battuta però insomma ci sono molte altre cose quando ci vuole ci vuole ma va bene anche così però guardate io prima ho posto in evidenza un pochino quelle che secondo me sono le questioni importanti intanto volevo ringraziare l'assessore Nespoli perché indirettamente ha fatto un gran bel complimento all'amministrazione Zaccaro quando lui ha parlato del bike sharing della biblioteca comunale di Piazza Duomo e di altre opere che loro hanno completato o che hanno portato in essere perché la differenza scusami Gigi la differenza è anche questa cioè loro hanno avuto in continuità così come diceva l'assessore di noi hanno avuto una grande dote un po' per demerito nostro non per niente il centro-sinistra cioè si è comportato non male a livello di organizzazione e a livello di programmazione abbiamo avuto dei problemi interni e l'elettorato ce l'ha fatta pagare loro hanno avuto un bel tesoretto e lo hanno applicato perciò tutte quelle situazioni che hanno dato lustro alla città di Andria è stato un po' il nostro tesoretto fatto questo a me oggi mi avrebbe fatto piacere parlare abbiamo perso un po' troppo tempo sul dissesto finanziario perché ecco della qualità della vita mi piaceva parlare del centro storico che si è ripopolato non grazie a questa amministrazione ma per un fatto casuale di uno svuotamento di un corso di un cavo dove poi di lì gli imprenditori andriesi ci hanno messo del proprio c'è ancora ci sono dei grossi problemi nel centro storico tra chi ha rischiato in prima persona perciò ha messo fuori attività commerciali e le persone che ci abitano ci sono ancora c'è degli scompensi mi sarebbe piaciuto parlare ma avremo tempo della Sangali allora quello che oggi è la visione non solo mia ma della coalizione a cui appartengo è l'ambizione è quella di far non di far ripartire Andrea perché io sono convinto che Andrea è ferma su tanti punti sulla sicurezza sul lavoro poco fa diceva dobbiamo dare certezze a tutti sul lavoro cioè certezza significa che quando il comune ha la possibilità di creare posti di lavoro non li deve lasciare al caso come ad esempio accadrà sul parcheggio dove l'azienda che ha vinto l'appalto e che avrà 20 persone che assumerà saranno assunte grazie a un'email questo secondo me in una società civile non è possibile non è possibile anche perché l'azienda una volta che prende le 20 persone dall'organo secondo me deputato che è l'ex ufficio di collocamento cioè l'agenzia del lavoro oggi lì bisogna andare a prendere le 20 persone e poi se queste 20 persone non sono idonee tanto la legge come dire tutela questi imprenditori perciò una vivibilità di Andrea con una soluzione migliore dei parcheggi che questa amministrazione ha completamente disatteso delle piste ciclabili che fanno ridere nel centro di Andrea cioè con un aumento di pericolosità con quel muretto di 10 cm che se qualcuno cade insomma devono anche pagarci come dire i danni ma voi avete aumentato Gigi ci sono 4 pericoli voi avete aggiunto il quinto perché anche l'albero è un pericolo però che significa si parla di no vabbè ma se noi dobbiamo dire le cose con contezza cioè è un pericolo pubblico il tuo programma togli il muretto non è solo togli il muretto non buttarla sul ridere io ho detto prima tu ti sei scusa ti sei non eri presente io ho detto che per me le cose importanti sono lavoro la salute va bene quando c'è la salute c'è tutto è l'economia di questa città che deve ripartire prima diceva Giovanni il problema dei giovani ma guardate io sono genitore di quattro figli di cui due sono fuori e questa è una cosa che ferisce il cuore e penso che quasi un po' tutte le famiglie sono fuori da quando c'è questa amministrazione ma no sto dicendo dobbiamo creare le opportunità Gigi non sto dando la colpa a voi dai non banalizzare per cortesia non banalizzare non banalizzare non ho detto che ci portiamo da tempo scusa io sono molto onesto nelle mie considerazioni ok ti ho detto prima ma questa guardate è una ferita che ormai entra quasi in ogni famiglia se non in quasi ma tantissimi giovani le nostre migliori energie cioè vanno fuori dal territorio perciò organizzare anche lì qualcosa per farli rimanere creare opportunità di lavoro forse di studio non lo so altro è stato chiarissimo anche a voi chiedo questo sforzo di non pensare all'esistente o quello che avete fatto ma di dirci quello che potete pensare di fare per il futuro no lasciamo poi l'ultima parola proprio all'assessore perché è appena arrivato quindi allora io credo che per il futuro bisogna portare a compimento i progetti che sono stati realizzati in questi cinque anni che sono o partiti o ancora devono partire per tornare a quello che si diceva poco fa ed è un dato importante fa migliorata e va capita anche quali possono essere gli interventi per monitorare uno stato di sicurezza che in effetti diventa difficile e che io credo e dobbiamo avere l'onestà di dircelo tutti quanti che quello che sta accadendo in Italia da un punto di vista socio-economico ha portato anche a un aumento purtroppo della micro criminalità e sono dei problemi che vanno affrontati anche se vorrei ricordare a tutti quanti che i comuni hanno un corpo all'interno che è quello della Polizia Municipale che dovrebbe avere altri compiti rispetto ad altri istituti però diciamo questa cosa che è importante indubbiamente stiamo vivendo un momento in cui la crisi economica si è trasformata in crisi sociale come mai è avvenuto dal dopoguerra ad oggi quindi stiamo vivendo un momento straordinario però è giusto anche che le amministrazioni comunali si facciano cariche di questo momento straordinario con interventi straordinari e tornando anche su quello che deve essere il futuro diciamo e come andare avanti e come migliorare ulteriormente il grado di vita di questa città dobbiamo dotarci di strumenti che cerchino di abbattere il più possibile i tempi amministrativi e burocratici dobbiamo continuare a migliorare su questo dobbiamo insistere ulteriormente oggi un imprenditore guardate quando si mette in giro quando parte è un sistema un po' un circolo virtuoso così come è accaduto per esempio per voi per un caso come dice Gianni c'è un caso una strada cede si chiude ma poi qualcuno decide di tenerla chiusa comunque quindi è un caso che nasce come caso ma poi c'è una decisione politica e c'è un'idea e c'è un pensiero io credo che sarebbe ipocrita promettere ai miei cittadini che nei prossimi cinque anni l'intero centro facciamo un esempio pratico l'intero centro storico della città di Andria sarà completamente rivalutato non può essere ma non può essere per un senso e motivo il centro storico della città di Andria è uno dei più grossi centri storici della Puglia non della nostra provincia e tant'è che aveva cinque porte inizialmente come suo ingresso non è un caso e quindi c'era comunque c'è proprio una difficoltà di raggiungere le diverse zone del centro storico per rivalutarlo c'è un enorme frazionamento di quelle che sono state le proprietà del centro storico oggi noi abbiamo una fotografia al momento dello stato dei fabbricati delle strade di tutto quello che riguarda quella porzione di territorio che è una porzione importantissima poi guardate ricordate quello che è accaduto a Bari con un'amministrazione di centro-sinistra Emiliano quando arriva aveva il centro storico che se voi ricordate era una zona pericolosissima da vivere ma già di Cana e Brescia iniziò ma lui si è trovato in una fase di trasformazione anche lì i primi due anni i primi tre anni è scattata la guerra tra residente e attività che nasceva ma poi si è arrivati ad ottenere un equilibrio e questo è fisiologico Giovanni io non credo che è quello che io auspico io non ho detto che sono io credo che sia fisiologico e credo che sia anche nella maturità della crescita di un territorio io oggi da genitore ti devo dire che sono felice vedere dei giovani nella mia città io ricordo che ai miei tempi e forse anche tu e i tuoi Gianni sicuramente come me ci mettevamo in macchina e andavamo a trarne a Biceglie insomma dobbiamo essere onesti in questo e oggi e oggi restiamo ad anni e credo che sia una cosa positivissima innanzitutto per i nostri figli allora credo che la nostra idea di futuro debba essere quella ripeto legata a quella di un miglioramento della sicurezza e a una cosa che secondo me è il vero progetto e la vera sfida per i prossimi 5 anni che è quella della mobilità sostenibile io ho un sogno ed è un sogno che nasce da un progetto che questa amministrazione ha completato e che verrà illustrato che è quello che tutto il centro abitato non debba avere la possibilità che entrino mezzi di tipo pesanti quindi i mezzi pesanti non devono poter accedere a una cittadinanza noi dobbiamo creare delle aree logistiche abbiamo queste aree per poter far sì che questi fabbricati questi mezzi non entrino più nella nostra città per diverse motivazioni sono stati anche i motivi dei crolli e poi dobbiamo pensare a una mobilità sostenibile quindi sicuramente a potenziare ulteriormente il servizio pubblico Assessore allora prima di dire alcuni punti diciamo purtroppo velocemente ecco però mi preme in ogni caso rispondere seppure senza far polemica con gli amici che prima mi hanno preceduto perché si dice una cosa le società che si sono aggiudicate in questo caso l'azienda che si è aggiudicata alla gestione dei parcometri o altra società che si è aggiudicata alla raccolta dei rifiuti si dice non reclutano il personale dall'ufficio di collocamento ora io credo che un'azienda privata che paga investe e ha un piano economico sia libera di fare le selezioni come ritiene per quest'ultimo caso dei parcometri sono state inviate le mail so che faranno dei test delle prove per verificare appunto la preparazione degli aspiranti a ricoprire questo posto di lavoro e così si andrà avanti però è importante è importante è importante fare un inciso no scusami io non ti ho interrotto non ti ho interrotto sei pregato di non interrompermi perché quello che dico ora è molto serio non volevo negli anni passati negli anni passati quando amministravano loro che sono lì seduti non altri non è che lo sono arrivati dopo loro erano lì seduti quando non altre società la società del comune di Andria cioè che di cui il comune detiene il 100% la multiservice ha fatto le assunzioni non le hanno prese dall'ufficio di collocamento quindi avevano potevano già aver dato prova della credibilità stavi tu ma cosa dici se non è vero ma cosa dici guardati un pochino guardati guardati i dipendenti della multiservice e poi vedi chi sta che cosa dici Antonio io non c'ero io non c'ero ho trovato il tasto dolente ma ti devo fare un elenco di chi sta a lavorare alla multiservice tu mi conosci mi parli con me l'avete presi dall'ufficio di collocamento io stai parlando tu hai detto io io non ero seduto in consiglio comunale quando quando stai parlando la multiservice è partita dal 2000 al 2005 e io non c'ero allora ti rinfresco la memoria e c'erano invece tutti gli amici che ci sono ora io ti ho detto di non interrompere perché non ti ho interrotto ma tu fai un'accusa scusa e non lo dici che io ero presente io ero presente vedi che ti sfugge che io non ero presente allora forse non è chiaro senti Gianni c'è una parte del cervello una metà che tende a dimenticare la devi riattivare un attimo è un fatto proprio medico scientifico nel 2007 2008 quindi periodo di consiglio comunale 2005 2010 sono state fatte le assunzioni per le pulizie nel comune di Andrea sono state reclutate una quarantina di persone non sono state prese dall'ufficio di collocamento se non è vero smentiscimi denunciami fai quello che vuoi è chiaro sono state prese tramite colloquio fatto dall'amministratore in carica in quel momento è zitto su questo non le avete prese dall'ufficio di collocamento allora oggi non venire a dire io non le ho prese io non c'ero ho capito ok basta poi negli anni negli anni io non c'ero io non ho partecipato ma non ho detto che hai partecipato tu eri la maggioranza ma l'amministrazione parli di me no tu hai detto io e lui che stavamo come amministrazione oh ma che veramente non capisco questo dice poi eravate l'amministrazione c'era sinistra tu facevi parte della maggioranza come noi facciamo ora parte di una maggioranza di centro-sinistra e devi badare un pochino alle cose che dici no io le dico se ti ho offeso vai dove vuoi perché ora se non vuoi capire non è un problema mio voi facevate parte di una maggioranza di centro-sinistra in quel periodo sono state fatte le assunzioni non le avete prese dall'ufficio di collocamento si trattava della società municipalizzata del comune di Andri di cui il comune detiene il 100% quindi oggi voi quando dite questo non siete credibili primo secondo e non siete credibili dovevate fare l'esempio dovevate dare l'esempio perché addirittura se non l'avete utilizzato l'ufficio di collocamento l'abbiamo cambiata mio caro informati 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 per quanto riguarda questo è un tasto ma ne usciremo altri di tasti chissà loro credono che devono soltanto raccontare quel che vogliono loro perché poi andremo alla Manutencopa e le assunzioni che fece la Manutencopa tutti dall'ufficio di collocamento le hai preso tutte di lì e poi ne parleremo e anche con qualche nome diciamo famoso ora e non c'entrano loro in questo caso ora per quanto riguarda il futuro il futuro prevederà dei punti importanti dell'intervento e degli investimenti importanti per quanto riguarda il settore della mobilità come stava già rappresentando egregiamente l'assessore di Noia cito una delle cose perché siccome si parla della possibilità di attringere misure di finanziamento abbiamo intercettato un finanziamento di 500 mila euro e tutti gli autobus le circolari che girano nella nostra città di Andria a diesel a gasolio eccetera saranno sostituite da tutti nuovi bus con impianto elettrico quindi questo probabilmente avverrà a luglio ad agosto a settembre quando si concluderà l'ite chiunque si troverà come si suol dire salirà per qui salirà sulla circolare e taglierà il naso però ecco questo è un finanziamento che è stato intercettato perché andiamo in quella direzione abbiamo intercettato e con questo diciamo parlo di una progettualità che approveremo a breve ma che vedrà la luce nei prossimi anni Andria è stata scelta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio in base a uno studio che è stato fatto tra dieci città del sud Italia che hanno un potenziale di crescita culturale importante e quindi abbiamo e stiamo elaborando con numerosi partner questa è la prima volta che ne parlo perché non abbiamo ancora diciamo ecco fatto provvedimenti o comunque comunicazioni di questa progettualità perché la stiamo studiando e abbiamo delle sinergie più importante con il patto territoriale con la provincia con la sovraintendenza con il parco dell'Altamugia con altri enti perché con il GAL perché l'obiettivo che abbiamo è quello di creare un collegamento importante tra il Castel del Monte e la città di Andria di cui per tanti anni si è parlato tutto partirà dal aver individuato come centro nevalgico il Palazzo Ducale e una riqualificazione dello stesso di cui il primo straucio è già stato diciamo esaurito il resto ma soprattutto la destinazione e la funzionalità dello stesso ad essere un grande museo virtuale legato alla figura di Federico II e anche un centro studi legato alla figura di Federico II quindi stiamo elaborando una progettualità in questi tempi il castello con il Castello creare questo osmosi attraverso dei percorsi cicloperidonali attraverso l'ufficio informativo che il GAL sta già realizzando alle pendici di Castel del Monte partirà a breve e si realizzerà entro luglio creando questo collegamento importante che si vadano ad innestare ad un'altra progettualità che abbiamo intercettato come finanziamento europeo attraverso un bando regionale che è quella dei patti per le città dove all'interno del nostro centro storico nel tratto che parte dalla porta di Sant'Andrea per arrivare appunto a Palazzo Ducale prevediamo sistemi di videosorveglianza sistema di telecontrollo di accesso al centro storico wifi un sistema di telegestione di telecontrollo di tutti gli impianti di pubblica illuminazione presenti nel centro storico che sono circa 700 al fine di ridurre l'impatto inquinante degli stessi almeno del 30% e questa è una progettualità che stiamo portando avanti in sinergia con gli altri tre comuni che fanno parte di questo capoluogo cioè Trani e Barletta e che appunto abbiamo individuato nei centri storici una valorizzazione massima questa per dirvi è una progettualità che noi stiamo ecco scrivendo stiamo predisponendo e che verrà sottoposta all'approvazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio l'onorevole del Rio perché poi la stessa a seconda di tutte le progettualità ne ho elencate soltanto alcune ho dato l'idea portante possano poi intercettare i finanziamenti per la tipologia di interventi questo anche al fine di recuperare Palazzo Ducale è soltanto una parte quindi noi stiamo ecco pensando al futuro di questa città perfetto perché il problema che affronteremo in questi 80 giorni che ci separano dal voto ad Andria sarà cercare di capire sì l'esistente quel che è avvenuto in questi 5 anni come è naturale che sia in ogni trasmissione di approfondimento ma cerchiamo di proiettarsi di proiettarci verso il futuro perché Andria ha bisogno di capire qual è il suo domani cercare di capire quali possono essere le strade per sviluppare ulteriormente questa città io ringrazio davvero di cuore gli ospiti perché al di là di qualche livello di voce un po' più alto in realtà i temi sono stati trattati bene con molto calore perché giustamente sono importanti riguardando la vita di tutti i cittadini di Andria io ringrazio davvero di cuore Gigi De Noia assessore all'urbanistica del comune di Andria ringrazio Antonio Nespoli per averci raggiunto anche se soltanto nella fase finale di questa trasmissione ringrazio Giovanni Addario di Progetto Andria grazie per essere stato con noi e ringraziamo Giovanni Burchio capogruppo del Partito Democratico di Andria l'appuntamento per tutti è la prossima settimana stessa ora stessa rete grazie buonasera grazie